E apriamo l'ampia pagina piemontese parlando della TAV perché c'è stato un incidente cade da traliccio e grave un leader della NO TAV, Luca Abba, 37 anni, che per protestare contro l'ampliamento delle cantiere e l'avanzamento dei lavori si era arrapicato su di un traliccio in località Chiomonte. Grave incidente in Val di Susa dove è iniziato stamattina l'ampliamento del cantiere per l'alta velocità in gravissime condizioni un manifestante NO TAV caduto da un traliccio dell'alta tensione a Chiomonte. Dopo aver preso la scossa, il 37enne Luca Abba, uno dei leader del movimento e tra i proprietari di uno dei pezzi di terreno oggetto dell'esproprio, si era arrapicato per protesta contro l'avanzamento dei lavori. Non è chiaro se la sua caduta sia dovuta a una folgorazione oppure ad una perdita di equilibrio. Abba è ricoverato al CTO di Torino dove è stato portato in elisoccorso. Parliamo di un altro incidente che si volta una notizia letta in provincia di Cuneo. Un anziano esclusionista, Antonio Gianola, di 72 anni, è morto dopo essere caduto in Val Grande nel comune di Vernante, proprio in provincia di Cuneo. Il corpo di Gianola, padre del presidente della sezione di Cuneo del club alpino italiano, è stato recuperato dalle squadre del soccorso alpino di Limone Piemonte e della Guardia di Finanza che l'hanno individuato a circa 1.650 metri di quota. L'alarme era stato dato ieri sera dai familiari dopo il mancato rientro del pensionato. Ora, altra notizia di cronaca, piuttosto grave. Un uomo di 48 anni ha ucciso a martellate il figlio di 18 e poi si è suicidato con un coltello. È successo nell'abitazione nella quale i due vivevano a Giaveno in provincia di Torino. I cadaveri sono stati scoperti dalla moglie dell'uomo e madre del ragazzo al rientro a casa stamani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Cominando Provinciale di Torino che stanno ovviamente facendo le indagini per capire quale sia stato poi il motivo di questo folle gesto. Ora cambiamo decisamente argomento. Parliamo di pensioni perché ecco le nuove regole per il ritiro della pensione. Per chi riceve pensioni superiori a 1.000 euro, stop ai contanti da maggio. Verranno versate solo sui conti bancari o postali. Se è inferiore a 1.500 euro i conti dovranno essere comunque gratuiti. Importante novità per i pensionati. Sarà da maggio e non da marzo, come previsto in un primo tempo, che i beneficiari di una pensione superiore ai 1.000 euro non potranno più ritirarla in contanti. A maggio infatti sarà esteso anche la pubblica amministrazione, quindi all'Inps, il divieto di effettuare operazioni in contante per cifre superiore ai 1.000 euro, misura voluta dal governo Monti come sostegno alla lotta all'evasione fiscale. Per venire incontro agli 850.000 pensionati che non hanno nessun tipo di conto bancario, postale o altro, il governo ha deciso che i titolari di pensioni fino ai 1.500 euro avranno diritto a un conto con spese di apertura e gestione pari a zero, fatti salvi altri servizi aggiuntivi che rimarranno a pagamento. L'Inps inoltre ha già raggiunto un accordo con poste italiane che si assume il compito di comunicare direttamente all'ente le coordinate dei nuovi conti postali. Per quelli bancari invece la comunicazione all'Inps rimane a carico del titolare. Queste le regole, ma sull'interpretazione è già un putiferio. Le banche infatti sono preoccupatissime. Secondo Banche Italia il costo medio di un conto corrente è di 110 euro, costo che moltiplicato per gli 850.000 nuovi correntisti fa circa un miliardo di euro a carico delle banche. La cifra però potrebbe essere maggiore perché non è ben chiaro se i 1.500 euro che fanno scattare il diritto al conto gratuito siano da intendersi netti o lordi. In questo secondo caso i costi per gli istituti di credito sarebbero maggiori. Inoltre le banche chiedono chiarimenti sull'obbligo di gratuità delle operazioni di prelievo allo sportello. In attesa della legge definitiva, il direttore generale dell'ABI, Giovanni Sabatini, solleva il dubbio di equità della norma. Le banche rischiano di dover offrire servizi gratis anche a chi non ha una gran pensione, ma possiede mobili e immobili. Nella norma niente chiarisce che il beneficio è pensato solo per chi ne abbia effettivamente bisogno. Parliamo ora di arte, di un'importante mostra vietato non sfogliare, libri da leggere con i 5 sensi. Libri da leggere appunto con i 5 sensi, libri speciali per tutti i bambini da toccare, ascoltare, guardare e provare. Saranno in mostra a Torino nella rassegna vietato non sfogliare, che sarà inaugurata l'8 marzo presso l'archivio di Stato di Torino. La mostra si snoda fra libri per l'infanzia dedicati al tema dell'endicap, e libri accessibili realizzati per bambini con disabilità. Ma di grande interesse per tutto il pubblico, ovviamente. Di piccoli lettori, l'esposizione è stata progettata e realizzata dall'area Onlus, associazione che dal 1982 opera a Torino, costituisce un punto di riferimento per bambini e ragazzi con disabilità e per le loro famiglie, con intento ovviamente di valorizzare i linguaggi artistici come strumenti di scambio e inclusione. Ora invece parliamo di un'altra importante notizia, parliamo di testamento biologico. Presentato il nuovo regolamento sul deposito del testamento biologico, da oggi sarà possibile infatti rilasciare il proprio testamento con le volontà sul fine vita presso gli uffici delle comune. Fino ad oggi le richieste sono 291. Presentato in comune a Torino il nuovo regolamento sul deposito dei testamenti biologici. Dopo l'istituzione lo scorso anno del registro dei testamenti biologici che permetteva di presentare il proprio testamento solo compilando il modulo standard definito dal comune, da quest'anno sarà possibile presentare sia il modulo standard sia un testamento compilato autonomamente dal cittadino e in busta chiusa, ovviando così ai problemi di privacy. Il testamento biologico è un documento non vincolante in cui si indicano le proprie volontà in materia di trattamento medico, somministrazione di farmaci, sostentamento vitale e rianimazione, anche quando non si è in grado di comunicarle. La prima proposta di legge nazionale risale al 1999 ed è allora non è stata varata nessuna normativa a riguardo, se non a livello locale. A Torino il testamento biologico è una realtà grazie alle 2800 firme raccolte dall'Associazione Radicale Adela Idaglietta, promotrice della delibera di iniziativa popolare. Un metodo dal basso verso l'alto che ha conquistato una vittoria per tutti mettendo Torino come prima città ad aver conquistato questa possibilità di deposito del registro dei testamenti biologici con iniziativa popolare. Altre associazioni, dalle chiese valdese, all'Associazione Luca Coscioni, alla Fondazione Veronesi, Altra, Exit Italia, raccolgono da tempo i testamenti biologici. Depositare però quei documenti negli uffici del Comune di Torino rappresenta un passo istituzionale importante, un millimetro avanti per conquistare il rispetto delle volontà di ciascuno di noi. Passato un anno dall'istituzione del registro, l'assessore Cristina Spinosa rende noti i primi risultati. Le richieste pervenute fino ad oggi sono 291. E quindi la città di Torino vuole continuare ad accogliere le istanze cercando di far valere i diritti di tutti e non solo di pochi. Per la legge italiana, che in merito non si è mai pronunciata, non è chiaro se questo documento sia valido o meno, ma i promotori ne sottolineano l'importanza. Il testamento biologico, dicono, aiuta il medico a capire la volontà del paziente e mira a sensibilizzare il legislatore sul diritto all'autodeterminazione. Ora parliamo di una notizia di cronaca sgominata a banda che clonava Bancomat, una banda composta da otto italiani e quattro rumeni specializzata in cronazione di Bancomat, è stata sgominata dalla Polizia Stradale di Mondovì in collaborazione con la Polizia Giudiziaria della Procura di Mondovì. Quattro persone sono state arrestate, mentre di altri sei sono stati denunciati, altri due ne invece sono irreperibili. Sono accusati numerosi episodi di cronazione di carte Bancomat perpetrati presso cinque sportelli di Mondovì tra il 20 novembre del 2010 e il marzo del 2011. per clonare le carte, la banda usava uno skimmer e una microtelecamera per capire il numero della banda magnetica e ovviamente il PIN. Le carte clonate però non permettevano di prelevare direttamente, venivano quindi fatte ricaricare su carte fittizie che poi venivano utilizzate ovviamente per prelevare i soldi. Ora cambiamo argomento, chiudiamo in bellezza questa pagina piemontese, parliamo di cioccolato perché ritorna quest'anno a Torino dopo il grande successo del 2011, il dolce appuntamento con cioccolato. Nel programma dal 2 all'11 marzo, degustazioni e iniziative legate ovviamente al fantastico mondo del cioccolato. O ci vai, o ci sei e con questo slogan che torna dal 2 all'11 marzo in piazza Vittorio Veneto a Torino, una delle manifestazioni più dolci dell'anno, cioccolato, giunto alla sua nona edizione. Il cibo degli dei, così il cioccolato veniva chiamato dai Maya, verrà presentato in tutti i suoi aspetti, anche in quelli meno conosciuti. Come di consueto, cioccolato sarà un luogo d'incontro fra produttori e consumatori, con i migliori maestri cioccolatieri e pasticceri della regione, al lavoro per gli occhi, ma soprattutto per la gola del pubblico. Ogni giorno si terranno laboratori di lavorazione del cioccolato, guide alla degustazione, corsi di pasticceria e di cucina. I maggioreni inoltre, tutte le sere dalle 21 in poi, potranno conoscere un lato insolito del cacao con i cocktail al cioccolato realizzati dai barman dell'Associazione Commercianti di Piazza Vittorio. Ma la vera novità del 2012 sarà l'omaggio che Cioccolato ha voluto dedicare alle donne, prolungando la celebrazione dell'8 marzo anche al giorno successivo, tutto dedicato a iniziative rosa. Costicipiamo al 9 marzo, perché le donne, soprattutto quelle che amano il cioccolato, bisogna festeggiarle sempre. E quindi c'era un calendario di appuntamenti molto interessanti. Poi la novità di quest'anno è quella di aver spostato in Piazza Vittorio tutti i momenti, quindi i laboratori di degustazione guidati, si rivolte a un target bambino che adulti. Ma noi l'anno scorso abbiamo ricevuto la visita di circa 500.000 visitatori, molti dei quali sono rimasti colti da un'improvviso calata di caldo, perché vi ricorderete che l'anno scorso era sopra i 25 cali, ciò non favoriva sicuramente i consumi di cioccolato. Speriamo che l'inverno non sia come quello di qualche giorno fa, ma sia un inverno adatto per consumare del buon cioccolato. Grande spazio verrà dedicato alla cultura, alla conoscenza del territorio e dei suoi frutti, grazie alla collaborazione con Slow Food. L'associazione di Bongustai organizza infatti diversi spettacoli teatrali, proiezioni di documentari, anche un interessante incontro con medici nutrizionisti che illustreranno le numerose proprietà terapeutiche del cioccolato.